Come sempre è l'idea di fare così, chiamiamo le prime due classificate e poi vediamo chi sarà la nuova reginetta chiamiamo Aurora Pasquali e Rita Nasic, loro due sono le finaliste, venite, venite qui davanti allora, momento catartido, come vedete si intreccia lì, non avremmo, stavo anche io passami qualche rosa, vieni, vieni insieme, le rose giustamente, voglio fare il romantico voi applaudite dai, per una sera che faccio il figlio assiccio, vieni, vieni vicino a me, così me ne consenso ogni volta devo fare due chilometri, vai, brava ragazzi, brava e belle Sì, però we are the champion, al momento, andiamo per tutti, allora chi non ce l'ha la rosa io non ce l'ho così, se non ci fosse niente poi magari sarebbe... Questa è una scusa, le rose ci sono per tutte, siamo stati fortunati, benissimo, allora viene a premiare il sindaco Giuliano Ciavoco ovviamente e anche Savino Parè Savino vieni anche tu, allora ho un microfono in più, bello perché ti zitti state, mi piace questa cosa così allora dovete sapere che nel corso del pomeriggio noi abbiamo fatto le prove e c'erano qua sul palco delle modelle bellissime, poi questo video sono sicuro che andrà in giro quindi... Assolutamente Delle modelle che non erano loro però, erano più grandi di loro Ah, sì, non penso che non lo ricordo, sì È stata bella, è stata una bella situazione perché... Emozionante Esatto, anche perché ci siamo resi conto che è stato... Sei un grande No, no, io... Ed è il sindaco che l'ha ideata tu, ed è il sindaco Allora, questo lo cedo al sindaco Giuliano, non so, vedi un po' dovrebbe... È acceso o non è acceso? Questo era quello che non funzionava Ovviamente sto creando l'atmosfera Ti ho capito, ti ho capito Visto che fa caldo Però piace questa cosa Allora Comunque l'ho tutte quante belle che veramente qua Non è sì E poi guarda, quelle lacrime lì proprio mi piacciono, che dire, non è per sadismo però Lei è stata la reginetta l'anno scorso Ed ora purtroppo questa bella corona e questa fascia se ne vanno Vabbè, la fascia ti rimane la corona anche perché sei bellissimo Allora Come facciamo? Andiamo direttamente a premiare la prima classificata nonché la nuova Miss Marche, una ragazza per il cinema Io il nome lo faccio dire direttamente a te Va bene? Lo dici tu? Angia, un po' di... Bello perché... Guarda la regia, mi dico come si è... Prima classificata, nuova Miss Marche, una ragazza per il cinema è... Abbiamo passato dei momenti insieme bellissimi È una ragazza bellissima e lei è Rita Nasic Una ragazza per il cinema Marche Eccola qua che viene coronata a San Giresio E ovviamente un grande applauso per Aurora Pasquali Bellissima anche lei Seconda classificata, ma anche tu la dai in Sicilia Quindi non vedi così Prego Silveco E prego anche Salino e Siena Greco Ci sono dei problemi con la corona, vero? Ovviamente io prego i ragazzi con la faccia di rimanere qua Perché faremo le foto che poi serviranno anche ai nostri amici giornalisti La faccia a Geli A Geli Allora voi Aurora, vieni Ma tu tranquillo Lui è timido, non voleva andare avanti Quindi vai 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 Seconda classificata, ma ovviamente è stata una battaglia Vi stavano dicendo, veramente è stata una battaglia sul filo del punto Quindi Aurora Pasquali Seconda classificata, bellissima Crema, bellissima Lo ripeto con una volta a tutte quante le ragazze Io voglio ringraziare anche il fuori concorso Sabrina Di Gioia Un applauso a questa bellissima ragazza Io grazie anche la nostra mascotte Giulia Giulia dove sei? Giulia sta abbracciando tutti Giulia Capretta che è la nostra mascotte Vieni qua insieme A Sabrina Ovviamente loro due che ci hanno tenuto la compagnia